Signore e signori, ladies and gentlemen, questi sono minchia, i risultati dall'attacco, tentato, al negozio di Argos, possiamo vedere ancora qualche resto, vedete qui è stata spondata la vettrina, sono roba interna, non so se si vede il casino dentro, forse di questa porta centrale, che non è il casino dentro, amicchia, si hanno spaccato tutto, possiamo vedere i resti, di petro, cose varie, anche questo fantastico negozio, è stato sfondato, attaccato, magari hanno misurato il messaggio, tutto il stock must go, hanno preso lì, l'hanno preso, l'hanno preso dopo letteralmente, si dove non ti piegavo, si praticamente qui ieri notte c'era un casino, come possiamo vedere ancora le pattuglie della polizia, stanno così, casino qua, casino là, lascia bollere, come potete vedere, adesso andremo anche alla pesca a vedere un po', questo è chiuso, questo è chiuso, quello è tentato di rispondere,